Registrato un nuovo caso di coronavirus nell'Agrigentino, si tratta di un cittadino di Siculiana, risultato positivo al test e di cui si attende l'esito del secondo tampone. Il numero complessivo dei contagiati della provincia di Agrigento è salito quindi a 121. Questa è la comunicazione del sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella. Informo la cittadinanza che l'Asp di Agrigento ha comunicato ufficialmente tramite l'aggiornamento del portale appositamente istituito che a Siculiana è stato accertato un caso positivo di coronavirus. Il sindaco e gli uffici competenti unitamente al medico di famiglia stanno attivando le procedure e le precauzioni che il caso impone, anche con riferimento al nucleo familiare. È opportuno evidenziare che la persona risultata positiva al test è stata ricoverata da Agrigento il 20 aprile per cause non riconducibili al Covid-19 e solamente dopo sei giorni ha manifestato febbre. Pertanto verosimilmente il contagio è avvenuto in ospedale. In atto il paziente trovasi ricoverato presso il civico di Palermo. La situazione è sotto controllo. Continuiamo a rispettare le misure di prevenzione consigliate. E ieri è stata inoltre anche la giornata in cui i militari dell'esercito hanno distribuito mascherine a tutti o quasi i comuni agrigentini. Rispetto alle precedenti 24 ore ci sono stati 4 guariti in più. Da 65 si è arrivati a 69. Sono calati anche i ricoveri, il cui numero è passato da 13 a 11. Ma purtroppo sono calati per via dei decessi dopo la morte del saccenza e ricoverato ad Enna e del bancario in pensione che era al Covid Hospital di Partinico dove rimane ricoverata la moglie. Il maresciallo dei Carabinieri in servizio ad Agrigente, residente a Favara, contagiato da Covid-19 dopo un mese e dieci giorni di ricovero al reparto di malattie infettive dell'ospedale Santeria di Caltanissetta è guarito. Il comando provinciale dell'arma dei Carabinieri, retto dal colonnello Giovanni Pellegrino, afferma che è in ottime condizioni di salute ma osserverà precauzionalmente un altro periodo di riposo prima di riprendere regolarmente il servizio.